Un momento per ritrovarsi, per condividere obiettivi, conoscere il percorso di crescita dell'Istituto di Credito e le prospettive future. Sono queste le principali finalità della tradizionale cena del socio della BCC di Castiglione, Messerremondo e Pianella, che si è svolta sabato 23 dicembre presso il Palacongressi di Martin di Montesilvano. Un anno caratterizzato anche da importanti sviluppi del credito cooperativo dovuti alla riforma del movimento e che ha portato all'individuazione di un capogruppo, Icrea di Roma, ma la BCC, grazie a importanti numeri, non vedrà intaccata la propria autonomia. Importanti infatti sono i risultati ottenuti da questo istituto di credito. Anche per quest'anno Milano Finanza ha posizionato al primo posto tra le banche abruzzesi grazie a un patrimonio complessivo di 67 milioni di euro e 33 milioni di patrimonio libero. Un indice di patrimonializzazione prossimo al 18%, ben più alto del requisito minimo obbligatorio del 9,95%. È un risultato eccellente che arriva, arriva dopo un anno anche questo particolarmente impegnativo, particolarmente intenso, un anno che ci ha visti impegnati ancora con la crisi, però è un anno che si è concluso anche meglio di quanto avevamo previsto inizialmente. Abbiamo continuato ad assistere anche durante la crisi le nostre famiglie, le nostre imprese e devo dire che i numeri ci hanno dato ragione perché abbiamo assistito alla clientela meritevole e ad oggi gli indicatori di rischio sono ancora alla metà della media di sistema. Durante la serata non è mancata la solita estrazione di un'automobile, la consegna di borse di studio a 39 soci o fili dei soci e per la prima volta alla cena erano presenti anche 100 ospiti della Caritas. Insomma, una banca virtuosa vicina al territorio e proprio per quest'anno, in un 2017 difficile per l'intero Abruzzo, l'istituto di credito, con uno sforzo economico senza precedenti, ha donato una turbina spazzaneve alla provincia di Terramo ed ha deciso di sostenere economicamente alcune famiglie coinvolte nel crollo dell'hotel Rigopiano.